Un risarcimento danni da un milione di euro per l'omicidio di Guerrina Piscaia. A chiederlo sono le sorelle e le nipoti della donna che si sono rivolte al Tribunale di Arezzo sostenendo che Diocesi e Vaticano abbiano responsabilità in merito alle condotte del religioso. La causa è approdata oggi nelle aule del Palazzo di Giustizia, ma si tratta di un'udenza cartolare, dunque non in presenza, che potrebbe concludersi con un nulla di fatto. La notifica del procedimento a Gratiena Labì è infatti andata a vuoto. I legali della famiglia Piscaia hanno inviato la citazione a Re Bibbia, ma il religioso è stato trasferito a opera a carcere di Milano su sua richiesta. Il giudice dovrà così fissare una nuova data. Guerrina Piscaia scomparve il 1 maggio 2014 da Caraffello. Nel primo pomeriggio si allontanò da casa per una passeggiata, ma di lei si persero le tracce. Al termine di un lungo procedimento giudiziario, Gratiena Labì, viceparroco congolese, è stato condannato a 25 anni di carcere per l'omicidio e la distruzione del cadavere. Il corpo della donna non è mai stato trovato, ma gli indizi incastrarono il religioso del quale la donna si era innamorata. Dopo il processo, in sede penale, le sorelle e le nipoti di Guerrina si sono mosse in sede civile.